campo alla naito abbiamo appena mangiato salute buongiorno oggi facciamo il trekking delle cinque scale questa che stiamo percorrendo in questo momento è sarga che ci porta in codula di luna come attraversiamo la codula di luna andiamo sulla parte opposta a destra orografica e andiamo a fare so sgaetanos ecco tutta la cricca siamo in codula di luna ci siamo imbragati tutti e ora sariamo da so sgaetanos stiamo facendo so sgaetanos questo qui è il passaggio che aveva allestito velia mereu uno dei grandi pastori alpinisti dell'epoca questo qui sarebbe un cavo di telegrafo che usavano in guerra e l'aveva recuperato da cala luna e si è fatto questa sorta di scaletta e qui è stata messa prontamente in sicurezza ulteriormente per non gravare sulla struttura capiteci grazie a tutti grazie a tutti e siamo a su di sterro dietro su dietro su masongio ora iniziamo la scala che ci porta su maggiungio per andare a fare un video sopra cala luna e da lì piglieremo un'altra scala a scendere ma sia inizia a stare Porque Dere inizia su Masongiu. Adesso entriamo in questo canaletto e facciamo la verticale della spiaggia che ci porterà giù e si chiama... Si scala il Nosculi. Nosculi, ok? Dai! Siamo appena scesi da Nosculi, bellissimo giro, ora siamo a cala l'1. Come dire, siamo alla quarta scala, ci manca l'ultima, Siscra, un'ora e mezza siamo alla macchina circa. Questo trekking è chiamato il trekking delle cinque scale. Ora ci facciamo anche un bagnetto a fine marzo. Grazie a tutti. Ecco la serie di disarrampicate che stiamo facendo. Poi i tronchi sono crollati e qua possiamo vedere cosa aveva realizzato sempre Zio Biramereu, lo stesso filo che aveva recuperato la cale che aveva utilizzato anche per il passaggio fatto ieri, Sosga e Thanos. Incredibile. Quanto è lo zaino? Capentina, sarà in questo momento. Capentina, sarà in questo momento. Capentina.